Bene amici, parte quindi ora ufficialmente il let's play di Mushroom Man, qualsiasi cosa onestamente sia. Va bene, il giocatore è singolo, personaggio abbiamo il duro, il saggio, il rapido, il saggio mi piace, forse... eh sì. Ciao, sbaglio o sei alle prime armi, sono qui per spiegarti il tuo ruolo nel villaggio. Qui depositiamo il cibo e i materiali per costruire, secondo quanto ordinato dal grande capo. Le viserve scarseggiano sempre di più e dobbiamo difendere ogni briciola dalle bestiacce che vivono nei paraggi. Ogni aiuto è prezioso, visto che qua intorno pullula di mostri. E svegliati i rifili miei, ho fame. In generale, corre in superficie per prendere un po' di cibo da quegli inutili golosoni del villaggio dei Boleti. Sì, meglio. Siamo in fase, qualcuno faccia qualcosa, aiuto. Ok. Io come... mostri, non vi... Ah! I mostri rompono nelle nostre case, vogliono le nostre riserve di cibo. Dal fuoco che ha nei tuoi occhi direi che, se riuscirei a sopravvivere ai primi giorni di battaglia, sarei destinato a diventare il guerriero più forte di tutti i tempi. Ok, i primi... va bene. Poi pulsantiera, insomma. Per prima cosa devi raggiungere il centro della battaglia. Ti indicerò la strada con dei puntini rossi sulla mappa. Tocca con lo stilo quest'icona per invertire gli schemi. Dopo lo scambio potrei toccare i puntini con lo stilo e leggere il tasto relativo alla missione. Gli altri puntini indicano vari importanti dove procurarti e affidare un custodio alla tua anima. Ti spiegherò meglio qualità di fare, vuol dire salvare il gioco immagino. Ora segui i puntini... ok. E se facessi così? Mi sembra meglio. Tocca con lo stilo il punto interrogativo per chiedermi aiuto. Certo, non è un obbligatorio, ma potrei esserti utile. Ah, no. Ok. Quindi... Devi imparare ad avere il pieno controllo del tuo corpo. Prova a saltare. Come il pulsante L o il pulsante R. Ok. Cosa è successo, amico? Era il mio turno. Era il mio turno riguardo a quando quei mostri sono appassi all'improvviso. No, devo tenerlo perfetto qui su, perché se no ne ho due. Va bene. Era il mio turno riguardo a quando quei mostri sono appassi all'improvviso. Abbiamo fatto collare il ponte per impedire di arrivare al villaggio. Ma poi sono arrivate le creature volanti e hanno preso tutte le nostre scorte di cibo. Non preoccuparti amico mio, li riporterò tutti indietro. Ok. 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 No, qua faccio una brutta fine. Ok. Ok. Ora affronterai il tuo primo nemico. Tocca lì con l'inventario con lo stilo per accedere all'inventario. Ok. No, aspetta. Qua. Ora, inverti gli schemi e cominci a combattere. Mi sembra un pelo lento, posso essere onesto? Per evitare gli artigli... ok. Primi giù sulla pulsantiera. Guardate che cano funziona. Ok. Vabbè, devo abituarmi un attimo il comando. Con la stessa sostanza il mutagenio ti rende più forte e resistente. Per quelli di insufficienza potrai affinare le tue abilità, però quelli del mutagenio è sufficiente passarci sopra. Ok. Posso... ok, non costruire un caldo. Questo cosa? Spada stuzzicadenti. Qui... volevo cliccare. Presto imparare a sfruttare a tuo vantaggio diversi elementi di questo mondo stile. Dovrai utilizzarli in maniera creativa se vuoi sopravvivere. Colpisci con i pezzi di carta per sturdire lo scarabere. Ehm... Geniale. Sono vivo. Sono ancora vivo. Grazie. Tocca il fungo per salvare la partita. Ehm... ok. Sembra vero il suo stile. Assolutamente. E' sempre allerto. Ok. Ne esitare a guardarti intorno. Ehm... 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 Vai via di qui per continuare la tua missione. Va bene. Tocca all'eroe per proseguire. Ci va? Ehm... Come so far vivi qui? Aspetta. Ok. 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 Molto bene. Vedete una tecnica molto interessante. ok picco aspetta devolatiamo appena ok io come cazzo lo aggiungo di sopra? hello? devo picchiare quei funghi? ok ma vaffanculo chi cazzo ci potrebbe arrivare? in realtà con questi mandati è una bella lezione proprio come mi aspettavo direi che ti metti la mia migliore invenzione il rampino con questo potrei seguire l'ultimo dei nemici e dare la caccia al loro capo ok quindi va bene quindi per buona parte del il merda ok io quindi direi che a occhio è meglio il è meglio tenerlo qua il 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 fanculo il il gioco con questo schermetto però è interessante sul braccio della sedia bastoncino bastoncino da shangai e bastone ok vediamo un attimo l'inventario 1,68 danni 1 no rimaniamo così aspetta 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 salviamo si voglio salvare assolutamente il seguito è per way da quel che ho capito o meglio dovrebbe essere per way poi uno ce l'ultimo il mushroom man ce lo so sempre ok che accade? amor addrizzato va bene cos'è l'amor addrizzato? sono perplesso sono perplesso va bene qui o? piccola asta qui o? vediamo che bella ma posso ok allora facciamo così ma dove sono quegli oggetti? perché no? ah oh l'ultimo funeo di festival è una style ma più potente ragazzi stai invece fin... ok ok perché non posso? buono qua cosa c'è? ok aspetta ah ok va bene va bene ok molto bene non basta guardare ci si riprendono in breve tempo ok qui cosa abbiamo? perlina ma va bene ma posso dire che è assurdo ma c'è cosa è strano? però è figo qualcosa buttando giù quel barrier ha un suo immaginario veramente molto particolare usa i tuoi innati poteri dell'explorer per per spingere un'intera orta di nemici e distruggere oggetti speciali come il nido degli scarafaggi questa è un'intera orta di non più che cosa ne sono che cosa stai non c'è No? Allora è lui Aspetta Ah è papam, va bene Però da questa parte Perché non di qua? Ok Ma non lo posso distruggere ancora? Sto cercando di comprendere E' che ha fatto con degli accendini e ho sentito un fiocco, non capisco Ehm, non? No? Qui con me dice Ok No No Così Dai Non fare lo stronzo Ehm Pagini 2 No No, 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 ritorna qui Lo svelto mi sta aspettando Lo svelto mi sta aspettando Ok Ehm Perché su qui Lo immagino molto divertente Su PC Ehm Su PC Non 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 mi ha proprio Non mi convince così tanto Ehm 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 Se non mi ha fatto Pagini 2 Ehm Ehm Un'altra Inoltre È Ehm 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 Oh no Oh no, devo farmi l'intero livello Gesù Oh no Ok, va bene Sì, lo so, lo so Allora Andiamo Ok Vai Che cazzo è un albero a gomiti Ah, ma è una chiave Giavellotto uncinato Ok Sì, dai, l'ave l'ho già fatta Aspetta che non me la sono selezionata però Perché sono stronzo Ok No Ok Va bene Molto bene Via Riproviamo Sì, lo so Stuncate Ok Dai, sì Lo so Qual è lo Ok E ora Andiamo qui Che succede qua Ok Ok Andata La caccia al capo di quei mostri Ok Durante la mia assenza Aspetterò a te di prendere la nostra terra Prendi quest'alba Che la spora sia con te Che la spora sia con te Ok Devo trovare il cibo E riempire il magazzino Sì, sì Ma per un attimo Il mio inventario Uff Ma che cazzo Ho penso l'arma Aspetta Ok Uno Due Due Ma non mi aspettavo Di morire Vintagene E cosa succede? Ok Ma aspetta Ok Accetta Assolutamente Va bene Qui cosa succede? Ok Ah Va bene Ci sono Sì Va fatto un attimino di pratica Perché non è gioco Da dovevo il computer Non è gioco Non è gioco Non è gioco È gioco E' gioco Io l'ho utilizzato qua. Bello. Grazie, mi è piaciuto. Adesso. Ok, va così. Matita di legno. Tu? Lentissima. Mi tengo questo. Via. Santo Dio. Ok. Bene. Bericciole. Saranno qua? Oh, ok. Toccare il fungo per salvare la partita. Certo che voglio salvare la partita. Usa il tuo istinto. Va bene. Credo di dover valire. Oh. Puttanaeba. Peso tanto danno, cazzo. Ne ho preso veramente tanto. Panno. Bricciole. Penso di essere morto. Eh, sì. Ho questo presentimento. Ma è carissimo. Ma è veramente carissimo. Gesù. A parte che lì giù è vero, non ci siamo andati. Esiste vasso? No, no, no. Non andiamo nemmeno su. Vai. Ok. Ok. Eh, ma aspetta un attimo. Ok. Posso fare qualcosa con il... Ok. Ok. ok curati molto bene le bici le servono per il cibo pensate che stupido penso di doverle dare a quella cosa ok è il nido dei mostri che minaccia una scarpa ok si voglio salvare assolutamente ok è un gioco che onestamente stavo sottovalutando ok ok andata volevo salvare la partita ogni volta che mi muovo in questa macrozona io ho una caga che non potete neanche immaginare perché ho paura di morire 750 volte e insomma è sgradevole ok 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 hai combattuto bene ma sono io l'unico vero campione sin dal giorno dell'acometro qual è il cazzo io l'unico vero campione aspetta eh che no ok ok madonna ma non ci uscirò mai eh no oh certo ok in curati ammento addosso ah no ogni volta che cambi un quadratore vabbè ok salviamo ok ok allora prossimo registrazione